Oggi vi parliamo del Salva Roma perché in queste ore il solito governo delle contraddizioni, perché così abbiamo soprannominato questo governo Renzi, si è presentato in aula dicendo che il decreto Salva Roma veniva in qualche modo sospeso e il neoministro Boschi ha proprio detto che si sarebbe fatto un disegno di legge, invece guarda caso a poche ore al suo annuncio a Palazzo Chigi sono già chini a scrivere un nuovo decreto Salva Roma e noi siamo certi che faranno il solito decreto, l'ennesimo decreto sarà uguale all'altro, agli altri, perché questo è il secondo, nella sua disomogeneità, nella sua incostituzionalità e nel suo criterio ricattatorio di ci metto una cosa buona ma anche una cosa che mi interessa, questo meccanismo che più volte vi abbiamo raccontato, la politica del ricatto insomma. Questo è l'ennesimo esempio che vede questo Paese di come un forte mal di pancia di un partito come il PD mette in ginocchio in maniera continua un Paese per colpa dei propri problemi interni. Noi abbiamo detto in aula se il PD di Renzi ha un problema con Marino che se lo risolvi fuori da questo palazzo. Quello che a noi interessa è che questa città non faccia scempio dei beni pubblici e dei servizi pubblici. Sono stati tutti molto bravi a buttarci sulle spalle la colpa, subito. Noi ovviamente rispingiamo con forza queste accuse e vogliamo chiedere due o tre cose tipo ma se era così importante questo decreto perché l'avete gestita così male tenendola 57 giorni al Senato e lasciandoci tre giorni alla Camera sapendo che non si avrebbe potuto fare nessun tipo di lavoro. Perché non avete solo fatto un decreto Salva Roma quindi circoscrivendo così come Napolitano chiese prima di Natale attraverso il ritiro del precedente decreto Salva Roma di tenersi all'interno del tema. Chiudo dicendo che da mesi noi proponiamo e poi la mia collega Federica Daga ve lo spiegherà meglio proponiamo da mesi come risollevare le sorti di uno dei comuni più grossi d'Italia. La risposta è sempre una più che risposta verità che è quella che questa classe politica non lo può fare, non lo sa fare e non lo deve fare. Tra le altre cose come avete visto in queste ore le dichiarazioni dei membri della maggioranza del Governo ma anche della Vicepresidente della Camera sono state abbastanza frettolose forse ambigue perché il decreto è stato ritirato senza che in realtà si iniziasse a votare in aula alcun emendamento. Si è arrivati in aula con un fascicolo di emendamenti su cui era stata richiesta per l'appunto la votazione del mandato al relatore senza completare però già in commissione l'analisi di tutti gli emendamenti. Questo perché? Questo perché il decreto come ben sapete è arrivato in fretta e fu la Camera già con i problemi dei tempi di questa decretazione d'urgenza che pur essendo decretazione d'urgenza sistematicamente ormai da un anno a questa parte i decreti arrivano sempre al limite o li si porta ad arrivare al limite perché la fermentazione che ha avuto questo decreto assenato per due mesi è relativa a una trattativa che hanno avuto con l'anzillotta per cercare di ottenere questa o quest'altra cosa per cercare di mettere dentro quest'altra o fare varie modifiche al decreto stesso. Per due mesi quindi la maggioranza l'ha tenuto al Senato, non l'opposizione. L'opposizione ha dichiarato il suo voto contrario al Senato, al Senato come sapete non ci sono possibilità di dare regolamento per fare ostruzionismo, l'unico modo è dichiarare il voto contrario e così l'hanno fatto i nostri senatori del Movimento 5 Stelle. Arrivato alla Camera noi abbiamo proposto i nostri emendamenti migliorativi del testo. Logicamente essendo in scadenza il governo blinda come da sempre e la maggioranza blinda come da ormai un anno blindano continuamente i decreti senza la possibilità di poter discutere questa che ribadiamo è la seconda puntata della telenovela del Salva Roma. La prima puntata come vi ricorderete era scaduta praticamente verso la fine di dicembre quando su pressioni del Presidente della Repubblica poi era stato ritirato dal governo proprio perché è incostituzionale. La trattativa l'anzilotto è che c'è stato al Senato ma poi naturalmente quello che succede è che la maggioranza anche alla Camera cerca in un qualche modo di comprarci possiamo dirlo e qual era quello che ci hanno proposto? Ci hanno proposto va bene voi fate passare in maniera liscia alla Camera il decreto Salva Roma e noi vi calendarizzeremo una delle vostre proposte di legge. Capite che è ridicolo da una maggioranza che dovrà calendarizzare sempre le proposte di legge anzi è nelle nostre prerogative quelle di chiedere la calendarizzazione delle nostre proposte di legge trimestralmente è un po' un non senso. Sono arrivati al punto la maggioranza stessa da non sapere cosa fare sul decreto e i problemi per l'appunto con Marino tra la maggioranza tra il PD di Renzi il PD che aveva fatto la trattativa, il PD di Letta che aveva fatto la trattativa con Marino e gli attuali, l'attuale relatore e l'attuale commissione bilancio la parte formata dal PD ad avere continua telefonata naturalmente con Marino che chiedeva fino a mai la possibilità di mettere la ghigliottina anche su questo decreto e chiedeva se la maggioranza del PD potesse in qualche modo spingere la Presidente della Camera a mettere la ghigliottina, cosa che naturalmente non è stata fatta e sapete e penso che sappiate bene i motivi. Però anche qua due pesi due misure, l'hanno fatto naturalmente sul decreto Banca Italia perché era un decreto che pesava 7 miliardi e mezzo e c'era interesse di farlo, probabilmente in realtà non hanno tutto questo interesse a fare del bene e l'abbiamo visto per i comuni o per la città di Roma e quindi vedremo cosa faranno nelle prossime ore in merito. Raccontiamo un po' quello che molti di voi giornalisti sanno del Comune di Roma e della guerra tra bande all'interno del PD che si attua a tutti i livelli, qui abbiamo visto sciolto nell'acido praticamente l'ex Presidente del Consiglio, a Roma stanno cercando di fare lo stesso trattamento per il Sindaco Marino, che non è il nostro Sindaco ovviamente, non è il nostro candidato Sindaco che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo supportato perché come sapete bene avevamo il nostro, ma è il Sindaco che c'è adesso e con il quale come abbiamo sempre detto si lavora nel merito dei singoli provvedimenti, quindi con cui siamo pronti a lavorare quando fa atti che rientrano all'interno della cornice del programma del 5 Stelle comunale e come siamo pronti a combattere fieramente quando ovviamente fa atti che sono al di fuori di quello che è il nostro programma. I nostri consiglieri comunali con cui ci siamo lungamente confrontati in questi mesi perché noi usiamo fare rete, ci hanno raccontato in tutti questi mesi che molti componenti, esponenti della maggioranza e quindi in quota PD gli passavano informazioni per cercare di mettere in crisi Marino il loro Sindaco, quindi cercavano di usare noi, i nostri consiglieri comunali per mettere all'angolo e costringere le dimissioni quello che era il loro Sindaco. Questo che sta succedendo in questi giorni è l'atto finale, c'è stata una grossa stretta pressione al momento dell'approvazione del bilancio a dicembre che ricordiamo era il previsionale 2013 e si è avuto a fine anno come approvazione. Adesso stanno cercando di far decadere, o meglio faranno decadere questo decreto per cercare di aprire due scenari. Il primo scenario Marino si dimette e va ad elezioni. Il PD ha già un candidato, un candidato forte, un candidato in perfetta continuità con i poteri forti di questa città, molto ben accetto ai costruttori che ricordiamo sono i pupari invisibili di questa città. Probabilmente sullo stile Renziano adesso di un candidato non perfettamente di sinistra e quindi riescono a farlo fuori, la versione più semplice. Il secondo scenario è che Marino continua a spendere per quello che non può, cioè per dodicesimi, come fece la precedente gestione Alemanno andando ovviamente ancora ad incidere sul debito romano. In teoria si può fare, è stato fatto. In tal caso si rinvia il bilancio previsionale a fine anno, proprio come ha fatto Alemanno e in questo caso quello che viene sciolto nell'acido è l'assessore al bilancio attuale, morgante, che sta operando secondo i criteri di spesa previsti dalla spending review, quindi secondo quella che è la norma di legge e secondo anche i criteri di buonsenso che sono quelli che ci guidano sempre nelle nostre azioni da amministratori. In modo da avere poi il PD campo libero per riuscire a operare con tutte quelle politiche di mance, mancette e mangiatoie varie che hanno diciamo caratterizzato la gestione amministrativa di questa città negli ultimi anni che ricordiamo, negli ultimi 20 anni che è stata caratterizzata da una forte amministrazione di centro-sinistra e poi vabbè con l'ultima tornata elettorale l'amministrazione, la penultima anzi, con la gestione Alemanno. Questo è quello che noi sappiamo che ovviamente soprattutto chi segue la cronaca locale ben conosce come scenario, questo è quello che si dice nei palazzi, questo è quello che nessuno però poi scrive o fa vedere perché ovviamente non viene fuori, non viene fuori quando poi ringraziando il sistema, questa melassa di potere che è stata creata negli anni riesci a far passare determinate cose all'opinione pubblica piuttosto che altre. Nel merito invece passerei la parola alla mia collega Federica Daga per il merito proprio del provvedimento. Buonasera, noi sappiamo che in questo momento il sindaco Marino sta riscrivendo il testo per non mandare in default il comune ed è a Palazzo Chigi. Ci auguriamo però che nel nuovo testo non ci siano quelle norme ricattatorie che sono state inserite dal Senato e che promettono quello che chiamiamo il nuovo sacco di Roma. Il decreto ci andava a chiedere nuovamente di vendere patrimonio pubblico, licenziare, di smettere o mettere in liquidazione le partecipate in perdita, liberalizzare e nel contempo bloccare quelli che sono gli investimenti nei servizi pubblici locali a parte le quotate in borsa. Noi immaginiamo una città differente, una città senza parentopoli, senza privatizzazioni, lottizzazioni, senza discariche e inceneritori, senza cementificazioni selvagge e gestione scelerata del territorio e senza emergenza abitativa. Chiediamo che ci sia più attenzione nei confronti della cittadinanza e chiediamo che la cittadinanza possa partecipare a quella che è l'auditoria del debito in maniera pubblica, che ci sia un maggiore controllo in quella che la gestione della città e delle decisioni politiche che i cittadini comunque subiscono, giusto o sbagliate che siano, una Roma dove i servizi pubblici siano accessibili e garantiti a tutti attraverso anche tarifazioni sociali per i giovani, precari e disoccupati. Chiediamo invece di vendere il patrimonio pubblico immobiliare per fare cassa che questo venga recuperato e utilizzato per risolvere l'emergenza abitativa. Chiediamo che non si soffi nell'emergenza rifiuti e si avvii una concreta raccolta differenziata col fine di recuperare e riciclare il più possibile creando anche nuovi posti di lavoro. L'intento è quello di creare appunto la chiusura del ciclo virtuoso dei rifiuti, evitando così l'apertura di un nuovo inceneritore nei siti che sono già martoriati di Managrotta e di Albano Laziale. Chiediamo altresì di riconsiderare le posizioni dei manager e dei dirigenti delle partecipate che sono in perdita prima di guardare al personale in surplus, secondo loro, che si rispetti quella che è la volontà popolare del referendum del 2011 del voto di 1.200.000 romani che chiedevano che l'acqua tornasse ai cittadini. Noi chiediamo in pratica un nuovo modello di città ed è quello che abbiamo effettivamente chiesto una sera al sindaco Marino quando ci ha invitato al Campidoglio per esporci le problematiche della città di Roma e del bilancio. Sono le stesse tematiche, una parte di queste, le stesse tematiche che i comitati e i movimenti cittadini ci vengono a chiedere di risolvere su un'emergenza che non hanno mai avuto una risposta da parte della politica e noi cerchiamo in qualche modo di farle entrare quella che è la nostra attività istituzionale. I movimenti cittadini sono comunque mobilitati, ci sarà una primavera di mobilitazioni nella città di Roma quindi qualsiasi esito abbia il nuovo testo vedremo che tipo di scenario si andrà a creare. Noi chiediamo a questo punto alle istituzioni da che parte vogliono stare, se dalla parte dei profitti oppure insieme con gli interessi comuni della collettività. La colpa è di un governo e un Parlamento che non riescono a gestire decreti emessi dal governo, la colpa è di un governo che decide di togliere il potere al Parlamento decretando d'urgenza e lasciando a una Camera solo tre giorni. La colpa è di chi vuole risolvere all'interno di questo palazzo problemi di partito che dovrebbero stare fuori. Questo credo che sia la vera motivazione della colpa. Ce n'è un'altra, ossia la non volontà di risolvere questi problemi perché tanti sono i comuni in Italia che hanno problemi di dissesto, moltissimi sono i comuni in Italia che hanno problemi di dissesto, moltissimi sono stati fuori da questo palazzo a gridare aiuto a questo governo e a questo Parlamento. Nessuno è stato ascoltato, non ne cito ma potrei citarne molti dal nord al sud. Roma è diventato un problema di partito da gestire in maniera immediata anche per le motivazioni che la mia collega vi ha dato prima. Posso aggiungere una cosa? Quelli che sono gli scenari all'interno del PD, soprattutto insomma del PD romano, non sono frutto di una nostra valutazione, sono input che ci vengono nei corridoi, nelle stanze, nelle aule, nelle commissioni trasmessi direttamente da vari membri, quindi alla fine è una valutazione che ci viene da quelle chiacchiere che purtroppo non sono mai registrate in maniera ufficiale ma che alla fine si fanno nel momento in cui lavori fianco a fianco. Come dicevo prima, spesso e volentieri c'è stato proprio un voler mettere in difficoltà l'amministrazione del sindaco attraverso delle segnalazioni dirette da parte della sua maggioranza dicendo no ma perché non punti, non fai un question time su questo, perché non fai, non passi ai giornali quest'altro eccetera eccetera. Questo è quello che ci è stato raccontato che succede all'interno, poi insomma voi lavorate nella politica da anni, sapete benissimo insomma come funzionano queste cose. Grazie. Grazie. Grazie a tutti